La squadra mobile ha arrestato due persone su un mandato dell'autorità giudiziaria. Un uomo di 37 anni è stato condannato a due anni, due mesi e 20 giorni di reclusione dal Tribunale di Palermo per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Un uomo di 24 anni è stato posto in custodia cautelare dal GIP del Tribunale di Verona per rapina e furto aggravato in concorso. Dopo le procedure di rito entrambi sono stati portati nella casa circondariale di Caltanissetta, il primo per scontare la pena e il secondo a disposizione dell'autorità giudiziaria.